La prestazione è stata buona, peccato non aver fatto gol, però un punto secondo me importante perché ci consente di dare continuità di risultato e a questo punto del campionato è importantissimo questo, dare continuità di risultato, abbiamo cercato di vincere, non ci siamo riusciti, però andiamo avanti con i punti e questa è la cosa importante. Mister, un altro risultato positivo, un pareggio che vale, un pareggio pesante ai fini della classifica perché questa sera siete a 5 punti dalla zona play-out in virtù degli altri risultati avete guadagnato un'altra lunghezza sulla zona calda. Sì, sì, chiaramente se vincevamo la cosa era fatta, però insomma bisogna, le volte, quando non si può vincere non bisogna perdere, perciò noi abbiamo cercato di vincere in tutti i modi, abbiamo cercato di attaccare, loro si sono chiusi anche bene, tutti là dietro la linea della palla, non era facile, perciò complimenti ai ragazzi per la prestazione, peccato non aver vinto. Parliamo di quota salvezza, sentivo Castori, in conferenza si parlava di 47 punti visti i scontri diretti e i risultati di oggi, uno è d'accordo, due ha un passo dal traguardo a questo punto, basta un punto? Sì, noi adesso abbiamo tre partite, bisogna cercare di fare, già da sabato, cercare di fare questo punto che ci consente di essere tranquilli. Quindi 47, quota salvezza la diamo ufficiale? Ma 47-48, insomma, quella dovrebbe essere. Pilon, da quando è arrivato lei sulla panchina di Pescara, Biancazzurri hanno perso una sola partita, ma soprattutto questa squadra che prima del suo arrivo aveva grandi difficoltà in zona gol e subiva spesso, nelle ultime settimane ha segnato diversi gol, ma soprattutto, lo dicono gli ultimi risultati, ha chiuso la sarginesca della porta di Fiorillo. Il suo 4-3-3 è un 4-3-3 sostanzioso, di sostanza, perché porta punti. Sì, sì, dobbiamo essere sempre compatti, ho sempre detto alla mia squadra, è un campionato di Serie B, la compattezza è quella che paga. Noi in questo momento lo stiamo facendo bene, le prestazioni sono buone, perciò dobbiamo continuare così. Le chiedo, su questo 4-3-3 lei ha detto più volte, ha, virgolette, ringraziato Zeman per l'ottimo lavoro fatto dal punto di vista atletico, la squadra corre tantissimo, dal punto di vista della produzione offensiva, lo dicono le statistiche, la sua squadra, il suo 4-3-3, conclude di più in porte, segna di più di quella di Zeman. Ecco, dove ha modificato lì qualcosa? Ma innanzitutto ci comportiamo, insomma, in una fase difficile, dobbiamo tutti e 11 difendere, e tutti e 11 dobbiamo attaccare. Credo che nel possesso palla siamo migliorati, nella gestione della palla, nel giro palla, nell'attaccare la profondità, lì siamo migliorati dal mio punto di vista, ecco, quello può essere una cosa. Si vede un'altra squadra in campo, Pillon, però lei saprà, non c'era qualche settimana fa, saprà che è cambiato dopo il suo arrivo anche il clima che si respira allo Stadio Adriatico, prima giocare qui dinanzi ai propri tifosi per i suoi giocatori era problematico. Da qualche settimana invece c'è un clima diverso, i tifosi incoraggiano ancora di più la squadra dal primo al novantesimo, e poi questo baby Pillon sta facendo sempre più breccia nel cuore dei tifosi del Pescara, se l'aspettava? No, sinceramente no, ma li ringrazio di tutto cuore per l'affetto e il sostegno che mi stanno dando, io spero di ripagarli con la salvezza il quanto prima possibile. L'ultima perché poi deve andare Pillon, lei ha detto più volte, voglio prima la salvezza e poi parliamo di futuro, chiaramente manca ancora per la salvezza, però le dico, mi risponda sinceramente sì o no, le piacerebbe rimanere a lungo a Pescara, secco, sì o no? Sì, mi piace. Grazie, grazie al tecnico del Pescara.